Boom di guarigioni a Torre del Greco, dove si sono registrati 124 nuovi guariti nella giornata di ieri. Comunicati anche 46 nuovi casi di positività a Covid-19, di cui uno in regime ospedaliero e di restanti 45 in isolamento domiciliare. Effettuati inoltre 175 tamponi, i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. Muta quindi il numero dei positivi, con 956 soggetti in isolamento domiciliare e 19 ospedalizzati. A Torre annunziata 32 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 74 guarigioni ed un dicesso. 417 i cittadini attualmente positivi, 410 i posti di isolamento domiciliare e 7 ricoverati. Sale 871 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 441 guarite e 13 decedute. Rispetto ai giorni scorsi si registra anche a Castellammare di Stabbia un calo dei nuovi positivi e nuovamente un alto numero di guariti. Il numero delle persone risultate positive al coronavirus nella giornata di ieri è 40. Tra essi solo un cittadino presenta sintomi lievi della malattia. Contagiate alcuni giovanissimi, tra cui due bambini di 5 anni e quattro ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 326 tamponi. Buone notizie infine per 29 stabbiesi che sono risultati negativi al tampone di controllo e sono stati dichiarati guariti.